Se stai partendo con il tuo story in questo momento e non sai che cosa vendere, in questo video ti mostro tre prodotti che potresti vendere proprio in questo momento e con cui potresti fare degli ottimi, ottimi numeri. Questi tre prodotti che ti sto per consigliare li ho trovati in giro per YouTube, per Facebook, per Instagram, insomma con un mix delle mie solite strategie di ricerca prodotto e anche stando tranquillamente sui vari social ho notato questi prodotti che avevano molti molti numeri su Facebook soprattutto e che non li ho visti così tanto competitivi. Sicuramente però per esempio appunto quelle sponsorizzate di Facebook avevano già grossi numeri e in crescita, quindi per questo ti dico se stai guardando questo video e non sai che cosa vendere potresti fare uno store su questi prodotti ma non arrivare tardi perché altrimenti il mercato almeno di questi prodotti diventerà parecchio competitivo. Ci sarà sempre spazio ma non come in questo esatto momento. Quindi li vediamo subito uno alla volta. Prendiamo il primo che è questo vaso, questo umidificatore a LED in 3D, quindi con queste varie luci. È un prodotto molto interessante anche per il punto di vista, per il vario effetto wow che dico sempre essere importante, in effetti è così e questo prodotto ce l'ha. Infatti sulla sponsorizzata di Facebook, che adesso se la trovo te la faccio anche vedere, veniva presentato proprio con delle immagini, dei video davvero, cioè ti lasciavano sicuramente impressionato. È un prodotto che lo vedrei venduto bene in una nicchia ovviamente della casa, si tratta di un diffusore d'aria, di un umidificatore a LED per la notte, quindi per esempio uno store proprio sulla stanza da letto, magari sui sogni, sul dormire, sul riposare, cose del genere, potrebbe andare molto molto bene. Ho visto anche recentemente delle strisce a LED che anche grazie a TikTok, altra super piattaforma, stanno girando parecchio, quelle sono davvero troppo competitive e anche sature di per sé, anche se stanno subendo un piccolo aumento di vendite proprio grazie a questo social, quindi tutti i ragazzi e ragazze che fanno vedere le proprie stanze addobbate, diciamo, con queste luci a LED e il mix con un prodotto di questo tipo potrebbe essere qualcosa di molto molto figo. Qui ho preso il mio Facebook e ti faccio vedere in diretta se lo trovo. Adesso ho cercato Firework Humidifier, ma quello là aveva tipo 300.000 visualizzazioni, bisogna capire adesso come era presentato, però è una cosa tipo questa. Esatto, infatti è proprio lui, vedi che ha delle immagini, cioè è molto bello come prodotto, l'effetto wow ce l'ha sicuramente, soprattutto su queste riprese così al buio, e a mio parere potrebbe essere realmente un prodotto vincente di questo mese, questo mese gennaio, febbraio e probabilmente anche marzo. Poi ovviamente dipende dalla competizione come va a svilupparsi la cosa, rimane il fatto che è un gran gran prodotto, mi piace molto come è il risultato e ripeto, su uno store, una nicchia, su magari, che ne so, lo store per il sonno, per il proprio riposo e cose di questo tipo potrebbe fare molto molto bene. Il secondo prodotto invece è questo wireless charger multifunzione, infatti è una, appunto ha la forma di un power bank e tra l'altro fa anche da power bank con una delle varianti di questo prodotto, e non è altro che un caricatore, appunto wireless, con tutte le varie prese, le varie chiavette USB, anche l'accessorio per aprire la sim dell'iPhone o il porta sim, ci sta in una tasca, funziona anche, ecco vedi, come caricatore wireless e anche come appoggio per vedere eventualmente i video e quant'altro. Nonostante io non sia un fan degli accessori prettamente elettronici venduti in drop, questo sembra comunque qualcosa di sicuro, cioè ovviamente parliamo di, faccio questo discorso, se spediamo per esempio una tastiera o delle cuffie mouse da AliExpress, perché una tastiera nel tragitto potrebbe essere che in un imballo, appunto in una scatola di cartone, va da tutte le parti, si staccano dei pezzi e arriva in modalità non troppo giuste, insomma. Invece su un prodotto di questo tipo che è fatto appunto per essere messo in tasca, è facile anche mettere un involucro, cioè metterlo in un packaging sicuro e quindi non avremo troppi problemi, non avremo troppi dubbi su arriva rotto, arriva con qualche problemino di consegna e quant'altro. E quindi sul fatto che possiamo sfruttare anche questa nicchia, ovviamente elettronica, telefoni, iPhone, caricatori wireless, soprattutto caricatori wireless, che per esempio un altro prodotto che ti dico che ho visto molto è la base per caricare sia Apple Watch, che iPhone, che cuffie, tutto in uno. E quindi questo si va a mixare bene a questo trend in crescita in questo momento. È un prodotto questo che vedo bene sponsorizzato anche su pagine di tech, o pagine proprio di iPhone su Instagram. Tipo come vedi, pagine di questo tipo, quindi iPhone, iPhone XS, iPhone Dude, oppure altre pagine tech, insomma ne trovi davvero davvero tante e sponsorizzare un prodotto di questo tipo su queste pagine, che alla fine sono... trovi anche pagine da tipo 12, 20, 30k, che hanno engagement molto molto alti, molto buoni, perché vanno spesso virali, allora può essere la soluzione che potresti utilizzare. L'ultimo prodotto invece è questa pennina, che serve per rimuovere le ciglia in più, diciamo così. Quindi come vedi dalla foto, questa ragazza che cerca di togliere delle ciglia, che non vuole giustamente, con questo accessorio qui. Te lo consiglio perché la nicchia salute, bellezza, è una delle mie nicchie preferite in questo momento, e che lo sarà per tutto il 2020, perché prodotti di questo tipo, pennine, depilatori, cose del genere, stanno andando davvero davvero forte. Quindi queste, tipo rimozione dei punti neri o cose del genere, ne escono spesso di questi prodotti, escono, vengono scalati, vengono sfruttati tantissimo. Questo qui è una versione aggiornata del 2019, ha 500 ordini circa, sicuramente ce ne saranno altri con qualche ordine in più, però è tuttavia, è tuttora un prodotto che puoi andare a sfruttare. Questo quindi, anche come One Product Store, lo vedo molto molto bene, e lo vedo benissimo sponsorizzato su pagine di make-up, pagine di appunto meme per ragazze, tipo appunto pagine di questo tipo, quindi make-up ce ne sono davvero infinite, dai 100, 100k, 100-200k, fino a un milione, un milione e mezzo come questa qui. Quindi pagine proprio prettamente sul make-up e bellezza, salute, questo probabilmente è una sponsorizzata. E anche pagine di quest'altro tipo, che sono meme per ragazze, per ragazze e ragazzi, insomma un target circa dai 18 ai 24-25, che è proprio quello che cerchiamo con un prodotto di questo tipo. In definitiva su questo, proprio salute, bellezza, prodotti maneggevoli di questo tipo, sono molto molto forti, sponsorizzati anche su Facebook, quindi con una grossa campagna Facebook, con un buon budget si può andare a fare bei numeri. In realtà mi correggo nel senso che anche su Instagram, con andare a scalare poi pagine di make-up, bellezza e così via, su prodotti simili a questo qui, possono darti risultati ottimali nel tempo. Quindi in definitiva, se stai partendo con il drop, magari non sai cosa vendere, hai qualche dubbio, qui ti ho dato tre prodotti che a mio parere saranno fortissimi per il prossimo uno, due, tre mesi, e se vai a creare uno store come si deve, potrai scalarli per andare a fare anche uno store a lungo termine. Quindi magari prendi spunto da questi, ma fallo in questo esatto momento, perché come li ho trovati io in queste modalità, magari lo stanno trovando già altri, stanno facendo degli store, quindi non puoi permetterti di perdere troppo tempo a pensare, a procrastinare e così via. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto, magari prendi proprio uno di questi prodotti e vai a farci una sponsorizzata, in quel caso sarei felice di saperlo, quindi magari scrivimi qua sotto in un commento, scrivimi in privato, o se hai qualche dubbio mi trovi sempre sul gruppo Facebook che trovi in descrizione o sulla mia pagina Instagram, Obiettivo Un Milione, che trovi anche questa in descrizione. Ti ringrazio della visione di questo video e noi ci vediamo alla prossima!